Il terzo appuntamento della Formula 1 negli Stati Uniti si prospetta come un'esperienza unica, presentando una serie di sfide senza precedenti. Oltre a definire nuovi standard per l'intrattenimento, con un tracciato cittadino che promette velocità estreme e un afflusso di celebrità, con un cambiamento significativo nell'organizzazione degli eventi. Gli aspetti che sottoporre l'attenzione riguarderanno l'organizzazione del Gran Premio, le gomme e il loro comportamento, scopriremo perché, e la conformazione dunque del circuito. Partendo dal primo punto, per l'organizzazione intendo sia chi ha promosso questo Gran Premio sia il programma completo. La gara avrà inizio alle 22 di sabato sera in Nevada, in Italia invece saranno le 7 del mattino della domenica. Le prove libere cominciano nell'orario italiano, venerdì mattino con l'FP1 alle 5 e mezza e l'FP2 alle 9. Il sabato italiano, sempre di mattina, le FP3 alle 5 e mezza e le qualifica alle 9. E poi domenica, come detto, alle 7 la gara. Dal punto di vista organizzativo, per la prima volta Libert Media è promotore del Gran Premio che si è assunto direttamente il ruolo di organizzatore principale di questa tappa del calendario. Un investimento massiccio di 400 milioni di dollari è stato dedicato a questa operazione, stesa fino al 2032, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti e consolidare la posizione della gara come uno degli eventi clou della stagione. La sfida sarà certamente quella di riscontrare un ritorno importante degli investimenti per poi prendere un modello in eventuali nuovi Gran Premi. Questo poi, attenzione, perché se passa questo modello come modello vincente, questo potrebbe mettersi in competizione con il modello tradizionale, quindi con i circuiti tradizionali. Non è detto, però, che alcuni circuiti tradizionali possano fare affidamento proprio al Liberty Media come organizzatore diretto del Gran Premio. Secondo aspetto, le gomme e il loro comportamento. Las Vegas è una città che si estende su una superficie desertica, nella quale il giorno le temperature sono alte e di notte si abbassano drasticamente. Un problema, dunque, che potrebbe creare grattacapi team, perché il Gran Premio e le prove si svolgeranno alla sera. Il direttore del Motorsport, Pirelli, Mario Isola, sottolinea che si tratta della prima volta in cui si devono affrontare condizioni così fredde con pneumatici da 18 pollici, progettati per garantire il massimo grip a temperature superiore a 80 gradi. Le basse temperature aumentano i rischi, non solo per quanto riguarda le prestazioni dei pneumatici. Data la natura del circuito, ogni piccolo errore sarà severamente pagato a caro prezzo. E in caso di incidente, la safety car diventerà inevitabile. Tuttavia, ciò comporterebbe un ulteriore raffreddamento dei pneumatici, riducendo ulteriormente il grip. Quindi, è una sorta di circolo vizioso. Il tracciato subito ha ampie opere di risfaltatura e, durante il weekend, è essenziale che le vetture girino il più possibile per migliorare l'aderenza della pista. Poi aggiungo io anche il fatto di trovare una pista sporca, perché appunto è una zona desertica, un circuito cittadino. L'incognita sulle condizioni climatiche durante il Gran Premio aggiunge ulteriori sfide, come detto poco fa, perché le temperature previste durante gli orari in cui le macchine gireranno si attesteranno attorno ai 5 gradi. I team sono già preoccupati per la qualifica, pianificando i giri necessari per riscaldare le gomme in condizioni avverse. Il circuito cittadino, caratterizzato da poche curve veloci e numerosi rettilini, rende difficile il riscaldamento adeguato ai pneumatici. Il rettilino principale del circuito Las Vegas Strip è lungo 1,9 km e rappresenta un ulteriore fattore di preoccupazione. Le basse temperature ostacolano il riscaldamento dei pneumatici, influenzando negativamente l'aderenza e causando fenomeni come il graining. Questo fenomeno, problematico e condizioni normali, diventerà ancora più critico appunto a Las Vegas. La combinazione di freddo, carico dinamico limitato, asfalto nuovo, difficoltà di riscaldamento delle gomme e graining, rende il weekend potenzialmente pericoloso. Le elevate velocità, con punti superiore a 340 km orari e 4 punti di frenata da 300 km orari, potrebbero amplificare il rischio di incidenti gravi, con poca opportunità di rimediale a eventuali errori. Chiaramente, spero che tutto ciò che non avvenga, perché rischeremo di assistere ad una gara eterna, piena di auto rotte e soprattutto una gara spezzettata da bandiereggiare. safety caro, bandiere rosse. Terzo punto è la conformazione del circuito. Ve l'ho brevemente accennato sulla preoccupazione del comportamento dei pneumatici. La prima cosa che balza agli occhi è l'uscita ai box. La corsia, infatti, è nel bel mezzo della traiettoria di una curva a gomito, diciamo, seppur morbida, che giunge dal rettilineo principale. Il circuito è lungo 6,2 km, corre in senso antorario e presenta 17 curve e, come vi ho detto prima, un rettilineo di 1,9 km. Inizia in un ex parcheggio, che è stato acquistato dalla Formula 1 per 240 milioni di dollari. Nella stessa sono inclusi box, l'area paddock e una porzione del circuito che resterà permanente circondato dalle tribune. La prima curva è un tornante, come vi ho detto, dopodiché il percorso piega leggermente a sinistra e poi svolta velocemente a destra, passando dal circuito permanente alle strade cittadine. Le macchine percorrono 800 metri lungo Coval Lane, prima di entrare in una lenta curva a destra di 90 gradi e poi entrare in una lunga e ampia sinistra che circonda la nuova MSG Sphere Arena, quella arena fantastica che, se l'avete letto, c'è stato il bellissimo concerto degli U2. Prima di attraversare una sezione tortuosa dopo la Sphere Arena, da sinistra a destra e poi a sinistra, leggermente più veloce, che passa su Sands Avenue. Con il binario della monotaria che costeggia il percorso sulla sinistra fino a superare l'incrocio con Coval Lane, le vetture si dirigono verso ovest e affrontano una serie di ampie curve, oltre il paralseo Venetian alle curve 11 e 12, prima di una lenta curva a sinistra trascurata da Wynn. Qui le auto accelerano forte il lungo tratto di 1,9 km con due rettilini e una leggera curva a sinistra che supera alcuni delle hotelle e casino più famosi di Las Vegas come l'Isola del Tesoro, il Mirage, il Cesar Palace e le fontane del Bellagio, passandole tutti in un batter d'occhio. Curva 14 vira a sinistra di 90 gradi e questo dovrebbe offrire le migliori opportunità di sopparso nella corsa. Due zone DRS, una chicane a media velocità, destra e sinistra, conduce le vetture a sud su Est Hermon Avenue, fino a quando l'ultima ampia curva a sinistra riporta nella sezione dello stadio e sulla linea partenza e arrivo. Un circuito lineare ma allo stesso tempo insidioso. Dunque, Las Vegas rappresenta un'opportunità per la Formula 1, potrebbe essere chissà un modello, come dal punto di vista organizzativo e chissà se stravolgerà il canonico programma gara di un weekend. Ma come tutte le cose possono essere migliorate. Certo è che non possiamo avere un pregiudizio prima di vedere la prima scena di questo weekend. C'è anche da dire che porsi in condizioni di rischio oggettive, come correre notturna con il rischio delle basse temperature desertiche, facciano faticare gomme e freni e come sfidare la sorte. Però, non facciamoci la testa, vediamo cosa succederà. Io mi auguro una bella gara, uno bello show e che poi fino al 2032 possiamo sperare durante l'anno di attendere proprio l'appuntamento di Las Vegas come un appuntamento bello, un evento unico come magari potrebbe essere Monte Carlo, Spa, Monza. Certo che è un peccato non vedere una lotta per il mondiale, visto che è già tutto deciso, però, come vi ho detto nel post-gara del Gran Premio di San Palo, qualcuno lotterà per qualcosa di importante. Grazie per essere qui, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e a seguire il podcast su Spotify e le principali piattaforme. Grazie e alla prossima, ciao!